domenica prossima incontreremo il medico che ha ispirato la fortunata fiction rai doc nelle tue mani pierdante piccioni che ci racconterà la sua straordinaria storia di rinascita e di fede in tempo di pandemia allora ci vediamo domenica prossima su rai 2 sulla via di damasco con il nostro faccia a faccia con il doc della vita reale il rapporto medico paziente è fondamentalmente un rapporto di dialogo che mi cace l'hanno insegnato a scuola è il dialogo all'università non ci hanno insegnato a fare elettrocardiogrammi e le tac la comunicazione molto molto meno l'ho imparata sul campo se non pensiamo davvero al paziente commettiamo degli errori dovremmo pensare all'alto o meno egoistici